Buongiorno a tutti, io sono Federica e bentornati in un nuovo video. Odo vi porterò con me nella mia giornata tipo di una ballonina professionista a Praga. Vi farò vedere che cosa faccio, ma anche che cosa mangio, perché so che è un video che mi piace moltissimo. Adesso io ho fatto colazione e sto per scendere, perché devo andare in atelier a provare un costume per una nuova produzione. Infatti ogni volta che abbiamo una premiere creano i costumi su di noi, quindi devo andare lì. Il posto è abbastanza lontano, ci metto circa mezz'ora da casa. Poi andrò a lezione, poi avrò le prove. Vi porterò con me e farò vedere un po' quello che faccio. Nonostante ci sia un bel sole fuori, c'è ancora freddissimo anche se è il 6 di aprile, c'è tipo un grado, ma comunque spero che prima o poi la primavera arriverà anche qui. Prima di partire con questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, supportatemi con un pollice in su. Partiamo subito. Per colazione oggi prendo un caffè espresso con del latte di soia e poi il mio solito porridge con banana, lamponi e burro di pistacchi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La situazione è finita, purtroppo non posso farvi vedere nulla perché non posso filmare le altre persone. Adesso sono in una sala in soffitta che solitamente è sempre libera perché non si fanno prove. Sto facendo un po' di esercizi. Comunque volevo dirvi che ho delle punte nuove che sono dell'Agrisco e sono molto contenta perché sono vegana. Cioè la soletta, questa esterna qui, non è in pelle e quindi sono molto contenta di questo acquisto e di questo cambiamento. Comunque questo qui è il body che ho messo oggi, se si riesce a vedere. Mi piace tantissimo perché anche dietro è tutto scollato in qualche modo. Non so perché c'è la scala, onestamente. Comunque adesso vado alle prove. Per pranzo ho fatto una piadina. E dentro c'è dell'avocado, non si vede, tipo guacamole, dopo affumicato e pomodorini. Sono tornata a casa dopo le prove ho fatto la spesa perché oggi è giovedì e poi c'è il weekend di Pasqua. I supermercati saranno chiusi. Siccome domenica sera ho organizzato una festa qui a casa mia, sia per festeggiare la Pasqua, sia per festeggiare la fine degli esami finalmente, ho deciso di andare a fare un po' di spesa per comprare quello che mi serviva per cucinare. Quindi questo qua è uno svuoto da spesa, versione vegana non sana perché non mi farò vedere frutta e verdura come l'altra volta, ma le cose che solitamente compro se ho una festa, se devo cucinare qualcosa di più sfizioso e particolare per qualche ricorrenza. Quindi vi faccio vedere subito cosa ho preso. Beh, intanto delle banane, queste non sono per la festa, ma sono per me in generale. Poi ho preso la farina di grano saraceno, questa qui, che è senza glutine perché vorrò fare una torta e ci c'era una nemica peceria, quindi la voglio fare con questa farina che ho già sperimentato e che è molto buona e che funziona perfettamente come quella di grano. Farò sicuramente una torta, non so ancora come, non so ancora quale, però mi serviva. Poi ho preso del miglio, anche questo non è per la festa, ma è perché è riscontro e perché io lo mangio sempre, quindi ne ho preso un bel po'. Mi piace moltissimo. Poi ho preso del formaggio grattugiato vegetale, stile mozzarella, che si fonde, si scioglie, è veramente buonissimo. Questo qua, della marca Nourish, che lo userò perché pariamo la pizza, infatti ho comprato l'altro giusto nella base per la pizza pronta, che basta condirla, metterla in forno e viene buonissima. E anche lo userò per le lasagne, perché infatti farò le lasagne. Ho preso due confezioni di pasta vegana senza glutine, di lasagne. Questa qua la uso sempre, è della marca Tesco, del supermercato, e devo dire che è buonissima, le lasagne vengono benissimo. E appunto mettono d'accordo tutti perché non hanno né glutine né uova. Poi ho preso due pacchetti di granulare di soia, che è praticamente soia disidratata, che si usa per fare il ragù solitamente. E quindi poi vi farò vedere magari anche la ricetta del mio ragù, che viene sempre buonissima. Il ragù si può fare vegano in tantissimi modi, anche con le lenticchie per esempio, però con questo granulare di soia secondo me viene molto molto buono. E poi tra l'altro contiene 50 grammi di proteine per 100 grammi, quindi veramente è un alimento secondo me eccellente, anche per gli sportivi ad esempio. E ne ho preso due confezioni. Poi ho preso un passato di pomodoro, per fare sempre il ragù. Zucchero di cagna, che mi servirà sicuramente per la torta. Dello yogurt vegetale, forse anche per la torta, o altrimenti per me, perché lo mangio quotidianamente. Poi ho preso del tempè, questo non so se lo farò alla festa, forse no, se lo mangerò in questi giorni. E poi ho comprato quattro budini della Alpro, due alla vaniglia e due al cioccolato, che questi qua sono di essere buonissimi, non sono proprio stavani, però qualche volta ci sta. Quindi questo è quello che ho comprato. Ho speso in tutto 700 corone, che sono circa 28 euro. Sono troppo felice che sono quasi le 7, ma ancora c'è luce fuori, così posso fare video senza dover mettere la luce artificiale. È quasi radicena, in realtà ho fame, è un po' presto per me rispetto al solito, ma voglio iniziare a cucinare perché dovrò riprendere un po' tutto quello che faccio e perderò più tempo. Allora, ho già in frigo della patata dolce già cotta che devo consumare, quindi penso che mangerò quella, però ovviamente non è abbastanza. Quindi farò anche del... cos'è questa? Un cavolo, vezza, cappuccio. Lo farò in padella, semplicemente con olio, sale, spezie e lo farò cuocere. E poi voglio fare una frittatina di ceci, con la farina di ceci e il peperone rosso, che lo farò cucinare prima e poi metterò la pastella con ceci. Quindi vi farò vedere un po' come cucino tutta questa cena. Ogni volta che preparo un pranzo o una cena io ho in mente il cosiddetto piatto veg, che è un modo per visualizzare nella nostra mente il modo per comporre il nostro piatto, il nostro pasto, per renderlo bilanciato, nutriente, sano e saziante. Quindi quello che faccio io è pensare a una fonte di carboidrati che devo occupare circa un quarto del piatto, che può essere pasta, pane, pizza, volendo, patate, altri cereali senza glutine come la quinoa, il grano saraceno, il miglio, l'amaranto, ce ne sono tantissimi. Poi un altro quarto occupato da proteine, fonti proteiche. Io solitamente alterno il tofu ai legumi oppure il tempeh, oppure il seitan, oppure quindi lenticchie, fagioli, soia. Ci sono tantissimi, i favi, i piselli, i ceci, veramente anche la farina di legumi, quindi le fonti proteiche, però nel momento di azione vegetale sono davvero ovunque. Poi mette del piatto composto da verdure, sia cotte che crude, anche se in realtà preferisco quelle cotte perché facendo la sportiva e dovendo allenarmi ogni secondo della mia giornata preferisco avere qualcosa che sia più facile a digerire, mentre spesso le verdure crude, so appunto, hanno bisogno di un po' più di tempo per digerire, che possono anche creare un po' di aree nello stomaco. E poi anche una fonte di grassi, chiaramente, che è la più comune dell'olio di oliva, però io devo dire che sono ossessinata dalla salsa tahina, che è una crema di semi di sesamo, 100% semi di sesamo. Amo il sapore, la follia, quindi per me è quella la mia fonte primaria di grassi, devo dire, perché la metto comunque, dolci, salati, e poi è una fonte incredibile di calcio, quindi davvero pronta vegana, secondo me, è un alimento indispensabile. Poi può essere anche di semi, per esempio semi di girasole, semi di zucca, semi di lino, come avete visto oggi nella mia merenda, nello yogurt, perché c'erano i miei semi di lino macinati, 10 grammi al giorno, io li prendo sempre, giusto per essere sicura di avere i miei omega 3 della giornata. Poi l'avocado, insomma, se vi piace, altrimenti non è indispensabile. E niente, questo è il modo in cui appunto visualizzo il mio piatto, in questo modo so che sarà il bilancio del nutriente. Mi sto perdendo in chiacchiere, iniziamo subito a cucinare. Per prima cosa ho messo 50 grammi di farina di ceci nella ciotola, insieme a un bel pizzico di sale, aglio in polvere, curcuma e pepe nero. Adesso mescolo il tutto e aggiungo dell'acqua poco alla volta. Questa qui è la consistenza giusta, non troppo liquida, non troppo densa, non so come spiegarla, ma poi chiaramente non fa tanta differenza se è un po' più denso, un po' più liquida, ma cercate di arrivare a questo livello. E adesso lo faccio riposare mentre preparo le altre cose. Ho tagliato il cavolo cappuccio, l'ho messo in padella con un filo d'olio, sale, curcuma, pepe nero e aglio in polvere, come prima, le stesse spezie. Adesso lo farò cuocere in padella e aggiungerò penso alla fine anche un tocco di vino bianco. Ho messo un filo d'olio e del peperone tagliato ai pezzettini con un pizzico di sale. Adesso lo faccio cuocere un po' e poi aggiungerò la pastella di ceci per fare la frittadina. Il mio piatto è pronto, abbiamo la farinata di ceci con i peperoni, le battete dolci e il cavolo cappuccio cotto in padella. Ho messo un po' di tahina sopra, come vi ho detto prima, perché veramente mi piace tantissimo. E adesso non vedo l'ora di mangiare tutto. Come dolce dopo cena ho preso queste ciliegie ricoperte al cioccolato che mi hanno regalato molto pasquali. Devo dire che mi piacciono tanto, non è una cosa che mando spesso, però visto che ce le ho insomma me le godo. Ho finito di cenare, era molto buona e poi abbastanza affamata, quindi me la sono proprio goduta. In questi giorni sono abbastanza stanca, lo devo ammettere, perché oggi è giovedì e io martedì ho avuto gli esami, gli ultimi esami della mia vita all'università, per fortuna finalmente. Soltanto che è stato veramente stancante, perché ne ho avuti tre, uno dopo l'altro, tutti e tre scritti, due ore ciascuno, tre domande e risposta aperta. Non ci ho messo due ore alla fine per farli tutti, perché per alcuni ci ho messo un'ora, per un'altro un'ora e mezza, quindi ha finito un po' prima. Però comunque ci è stato veramente estremante, anche perché ero un pochino tesa, chiaramente, come sempre. Nonostante io abbia studiato, ho sempre un po' l'ansia di ricevere domande difficili, argomenti che non ho approfondito più di tanto. Quindi stasera mi riposerò, perché veramente ho bisogno di dormire in questo. Abbiamo avuto anche un sacco di prove in palcoscenico fino a ieri sera di un balletto, prove tutto il giorno, anche spettacoli. Quindi è un periodo un po' intenso per me, però sono contenta appunto di aver finito almeno gli esami, così mi sono dotta questi grandi pensieri. Adesso sto ultimando la tesi, però in questi giorni veramente ho avuto bisogno di staccare, perché è stato un periodo intenso. Gli esami sono andati comunque bene. Due di questi sono proprio sicura di aver fatto molto bene. Per il terzo esame non sono sicurissima di aver risposto in maniera completa, perché è una materia che non mi è piaciuta e che appunto non so se sono riuscita a memorizzare completamente tutto quello che voglio sapere. Comunque non mi interessa ormai del voto, come andrà, andrà, avrò i risultati tra due settimane, quindi saprò bene come è andata, però insomma non mi interessa più di tanto avere 30 in tutti e tre gli esami. Vedremo, vi farò sapere. Volevo annunciarvi che molto presto comincerò a pubblicare in questo canale dei video anche in inglese, perché ho tantissimi amici qui a Praga che non parlano italiano, che guardano i video nel mio canale e mi seguono su YouTube, chiedevano per forza attivare i sottotitoli automatici di YouTube, e che quindi insomma capiscono poche niente di quello che dico e mi dispiace tantissimo perché mi continuano a dire per favore fai video anche in inglese così possiamo capirti. Spero che questa cosa non vi disturberà, nel senso io il mio inglese non è perfetto, quindi penso che chiunque possa capirlo, possa magari anche aiutare voi se state cercando di impararlo meglio, però chiaramente continuerà a fare anche i video in italiano, perché so che ma la maggior parte di voi capiscono soltanto o meglio l'italiano. Ve lo però annuncio così la prossima volta che vedrete un video in inglese non vi sconvolgerete, non penserete se Federica sta cambiando tutto il canale, no, è soltanto una cosa che voglio fare in aggiunta a quello che già faccio. Comunque adesso che ho finito gli esami, che ho molto più tempo libero, sicuramente aumenterò la quantità di contenuti che pubblicherò in questo canale, farò molti più video perché ho più tempo, devo ammettere che è stata dura finire in due anni e mezzo tutti gli esami che avrei dovuto fare in tre anni. In realtà io il primo esame in assoluto l'ho fatto il 4 aprile 2021 e i miei ultimi tre esami l'ho fatto il 6 aprile 2023, quindi ci ho messo due anni alla fine per finire tutto. Sono stata forse troppo veloce, sì, però alla fine in qualche modo ce l'ho fatto, la media del 29, quindi non ho neanche dovuto fare gli esami giusto per farli, ma mi sono impegnata a farli tutti. Guardando indietro non mi pento di aver messo così tanto impegno in quello che ho fatto, perché comunque se ho scelto di fare l'università in modo volontario senza nessun obbligo lavorativo è perché avrei voluto studiare bene e quindi per me studiare non è stato un obbligo che mi sono imposta con me stessa perché dovevo farlo, perché altrimenti se sei stata disoccupata, mi è stato un piacere. Quindi chiaramente andando in questa prospettiva non me ne pento, però conosco il fatto che mi ha fatto un sacco di tempo, perché per ogni materia ho messo un sacco di studio e di lavoro. Sono contentissima, ma adesso che non devo più studiare vedo di avere un sacco di tempo libero in più. Io diciamo che l'ho fatto due giorni fa, quindi ancora di queste cose non me ne sono resa conto nella pratica, anche perché poi il giorno stesso dopo gli esami ho avuto proprio un palcoscenico, il giorno dopo ho avuto due spettacoli. Oggi è stata una giornata frenetica perché sono dovuta andare a provare i costumi, poi a lavoro fino alle 5, poi a fare la spesa, poi a cucinare, insomma, adesso forse riesco a riposarmi un attimo. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, se vi è piaciuto fatemi sapere nei commenti, lasciatemi un pollice in su, e iscriviti al canale se non potete perdere i prossimi e vi mando un grande abbraccio, ci vediamo alla prossima, ciao!